amici carissimi di auto occasioni oggi uno show davvero straordinario perché ho l'onore di annunciarvi una grande nascita mg a torino e auto altina ci troviamo in corso vercelli 232 unica concessionaria ufficiale di questo grande brand che amate moltissimo e io sono in compagnia di un grande esperto in compagnia di davide ciao davide ciao federica grazie un saluto a tutti è veramente un onore ospitarvi qui oggi per presentare la nostra nuova concessionaria quindi grazie a te a tutti gli amici telespettatori che ci guardano da casa allora sarà sicuramente interessantissimo ascoltare le tue spiegazioni perché tu sei preparatissimo i nostri amici ti troveranno qui per tutte le domande per tutte le curiosità e iniziamo a sollecitare la loro curiosità facendo vedere tutta la nostra condizione dai volentieri andiamo davide partiamo da queste meraviglie che cosa ci racconti della ZS? ZS è oggi il SUV del momento quindi riesce a mettere insieme tante caratteristiche importanti come l'eleganza la bellezza lo spazio per la famiglia quindi ideale anche per la famiglia ma soprattutto un prezzo veramente interessante partiamo oggi con ZS a 13.900 euro oppure con rate da 139 euro al mese tutto compreso quindi con polizza assicurativa e manutenzione quindi direi che oggi il taglio di vettura indicato per il 99 per cento dei potenziali nostri clienti dunque per MG e per nuova auto altina la sicurezza al primo posto naturalmente poi affiancata dalla meraviglia come per esempio di questa top di gamma certamente si chiama HS è il top della nostra gamma quindi rifiniture di altissimo livello ma anche qua un prezzo estremamente interessante quindi adatto sempre per le famiglie un qualcosina di più perché sulla versione top di gamma quindi sul modello luxuri troviamo il tettuccio panoramico il portellone elettrico gli interni elegantissimi una pelle veramente molto molto curata in questo caso il prezzo sarà di 19.900 euro oppure con la formula auto alpina easy come nel caso di ZS anche qui con canoni da 199 euro al mese Davide concludiamo con una proposta strepitosa per tutti gli amanti dell'elettrico sì mg4 è la nostra chicca è una vettura completamente elettrica e ricordo che oggi con gli incentivi governativi che è possibile prenotare qui da noi in auto alpina in corso vercelli 232 a torino questa vettura la potete acquistare con meno di 15.000 euro e a proposito invece di manutenzione di assistenza abbiamo un'altra nuova nascita sì e la novità diamo in anteprima comunicazione ufficiale dell'apertura dell'officina di corso grosseto sarà la più grande officina mg che riguarderà il territorio di torino corso grosseto 194 2.000 metri quadri di assistenza per le nostre mg e magazzino ricambi mi raccomando prendete nota perché mg a torino e nuova auto alpina in corso vercelli 232 naturalmente vi aspettiamo volentieri siamo qui disponibili per i test drive di tutte le vetture di tutta la gamma e quindi venite a trovarci un saluto carissimo da parte naturalmente di auto occasioni di mg nuova auto alpina da parte di Davide e di Federica